ben trovati ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato fabio ambrosi punto it questo in realtà più che un video tutorial è un video consiglio mettiamolo in questo modo via qual è il consiglio il consiglio è su uno strumento disponibile gratuitamente online da poter utilizzare quando si deve rispondere alla domanda quali colori utilizzare nel progetto video che sto realizzando stiamo preparando una grafica dei sottopancia delle animazioni e siamo indecisi su quali sono gli abbinamenti di colori migliori da utilizzare nel nostro progetto ecco questa è una domanda che chi lavora con la grafica soprattutto più che con i video si fa molto spesso oggigiorno un operatore multimediale deve saper lavorare un po su tutto quindi è una domanda che prima o poi tutti dobbiamo dobbiamo farci e a cui dobbiamo rispondere la risposta alla domanda quali colori utilizzare purtroppo deriva dall'esperienza e dalla pratica solo fare molta esperienza e allenare l'occhio a vedere i colori giusti per il progetto su cui stiamo lavorando ecco può aiutarci ad affrontare al meglio il nostro lavoro però per fortuna la tecnologia esiste esistono degli strumenti online che possono aiutarci in questo senso e oggi voglio mostrarvi molto rapidamente questo strumento gratuito messo a disposizione da adobe che non tutti probabilmente conoscono che si chiama adobe color molto semplice come come concetto per accedere a questo tool che vedete qui basta andare su google e cercare la parola adobe color tra i primi risultati ecco esattamente il primo risultato trovate il link al alla piattaforma al servizio all'applicazione online che ci aiuta appunto a rispondere alla domanda che ci stiamo facendo in questo in questo video adobe color come funziona è abbastanza intuitivo qui sulla sinistra avete diverse possibilità potete scegliere colori analoghi quindi per esempio questi sono tutti colori che virano che colori freddi che vanno sul sul blu potete vedete ruotare la selezione qui nella ruota e scegliere altre tonalità qui siamo sul rosso sono tutti colori come vedete analoghi la cosa buona è che avete qui in basso i valori esa decimali o rgb pronti ad essere utilizzati avete diverse possibilità per esempio potete scegliere colori monocromatici ecco abbiamo una stessa combinazione di colori che vanno sul rosso ma con diverse gradazioni di tonalità passatemi il termine che forse anche preciso comunque differenti a proposito di tonalità abbiamo proprio la voce tonalità che ci aiuta in questo senso ecco vogliamo creare un una grafica tutta sul sul verde ecco abbiamo già a disposizione i codici rgb da poter utilizzare per lavorare con la nostra grafica su tonalità che appunto virano sul sul verde ma la praticità di questo strumento non finisce qui perché per esempio avete una grafica su cui state lavorando con dei colori già definiti però volete avere una palette di colori analoghi o comunque che possono essere utilizzati con il progetto su cui state lavorando bene la seconda voce di questo strumento si chiama estrai tema ed è molto semplice utilizzare questo strumento perché perché io già ho importato un file che avevo sul mio computer su un progetto di un progetto su cui stavo lavorando è uno screenshot del mio cellulare come vedete automaticamente questo strumento questa applicazione di adobe estrae i cinque colori principali che caratterizzano l'immagine che io ho caricato come potete vedere appunto posso scegliere anche un'altra immagine ecco caricato un'altra immagine e questi sono i colori per esempio che caratterizzano principalmente questa immagine che ho appena caricato con cosa molto comoda appunto i valori estrae i cimali già stampati e pronti per essere utilizzati ma non solo possiamo anche creare una sfumatura per esempio io ho questa immagine voglio non so generare una sfumatura con i principali colori che caratterizzano questa immagine per esempio voglio questo blu voglio per esempio il questo questo arancione e voglio il questo questo grigio ecco che automaticamente adobe mi genera questo gradiente con i valori etra decimali già stampati in basso e pronti per essere utilizzati c'è un ultimo strumento molto utile nuovo che ci permette di capire se un'immagine o meglio un testo è sufficientemente contrastato e quindi semplice da leggere vi faccio un esempio pratico se è un testo bianco ok e ho uno sfondo bianco ovviamente il testo non viene letto è impossibile leggerlo non si scrive mai qualcosa di bianco su uno sfondo bianco anche se ho avuto a che fare con direttori artistici che è su un video volevano voleva farmi mettere una scritta bianca su uno sfondo bianco e non si vedeva nulla ma normalmente è una cosa che non si fa ok cosa si fa beh si può mettere una scritta nera per esempio su sfondo bianco questo vedete rende il mio testo perfettamente legge leggibile questo è semplice è semplice prendere queste decisioni ma cosa fare se per esempio se io ho un testo bianco e ho uno sfondo non so rosso quanto è leggibile beh sì la scritta si legge ma probabilmente il contrasto tra la scritta e lo sfondo non è sufficiente per rendere l'esperienza dell'utente gradevole bene io qui posso e infatti vedete che il rapporto di contrasto mi viene segnato come sbagliato con questo simbolino qui che mi indica che sto utilizzando un colore colori che tra loro rendono il testo poco leggibile se io prendessi lo sfondo lo scurissi poco poco notate questo valore notate 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 a un certo punto ecco che ho la spunta verde questa spunta verde mi indica che il rapporto il contrasto che c'è tra il testo e lo sfondo è sufficiente per permettermi una lettura agevole ok chiaramente il migliore risultato lo possiamo vedere una scritta bianca su sfondo nero massimo del contrasto 21 a 1 verde perfetta di contro come abbiamo visto prima una scritta bianca su sfondo bianco non è leggibile abbiamo un rapporto 1 a 1 e quindi no questa questa applicazione ci dice che non si può fare posso chiaramente scurire il mio sfondo fino a un certo punto perché vedete che anche qui si si legge la scritta ma non è un'esperienza gradevole per chi deve leggere quindi dobbiamo andare a scurire un pochettino lo sfondo per fare in modo appunto che la mia scritta sia sia leggibile ecco in questo modo per esempio ecco la scritta bianca su questo sfondo più scuro viene accettata e viene considerata semplice da leggere spero che questo strumento vi sia di aiuto se vi fa piacere cercatemi sul sito www.fabioambrosi.it seguitemi su facebook c'è la pagina ufficiale seguitemi anche su instagram cercate fabio ambrosi e se non l'avete fatto condividete questo video mettete un like e registratevi a questo canale youtube ciao grazie al prossimo video tutorial grazie al prossimo video